Ciao a tutti ragazzi sono FakosKMove e benvenuti con una nuova reaction del trailer di Dragubo Z Kakarot per il nuovo DLC Bellissimo comunque ragazzi, andremo a vedere insieme i minimi dei dettagli Se nello scorso video avete visto pure lo showcase di Dragubo Z Spacking 0 No scusate Dragubo Spacking 0 e quindi ragazzi andremo pure a vedere e vediamo pure che cosa ci hanno messo di così bello Pronti? Let's go! Wow ma questo raga è proprio bellissimo Wow guardate che bello! Stupendo Goku's Next Journey Bello Ma bello Wow che spettacolo Wow got the tracks cresciuti bello Spettacolo Ma inizia lo Scott No Bellissimo 10 anni mi pare se ho letto bene Ma che soffigata Guardate che spazio è d'ora Ma bellissimo Bellissimo raga Non ci hanno ancora dato shit Vedi si sopassi Va bene Allora ragazzi Analizziamo meglio i DS Allora andiamo un attimo indietro Secondo scusate che Tongo un attimo Queste Ah no solo questo Allora va bene Partiamo da qua ok Che Goku elimina Kibu Molto bello Ed è dettagliato Allora Gli abiti E' proprio Bellissimo Raga Ho voglio proprio Di acquistarlo A più presto Ragazzi Bellissimo Ragazzi Comunque raga Un attimo Che vi dico Se lo siete persi Nello scorso video Della reaction Di Dagobo Spakiga 0 Adate sopra Ne schede E lo recuperate Allora il dettagliato E' molto bello Ma pure Un'altra scena Più particolare Bello sorriso Ah che Stupendo Ecco Goku Next Jaunei Molto bello Mi piace Proprio Con la scritta Questo secondo me Raga Ecco Guardate la scena Mamma raga Questo Mi riscada E' bellissimo Vedere ragazzi L'emozione Vedere Tra la nipote Che abbraccia Il nonno Bellissimo Una delle scene Di Dagobo Che qua Raga Su Dagobo Z Caraclotte Questo nuovo Diel Si Mi ci portavo Oppure La serie Raga Prima devo perdere Gli altri Che mi mancano Raga Ho preso quello Di Il grande futuro E Per non parlare Eppure Quello di Badak E fine Del venticesimo Toneo Tecaici Vabbè Aspettate Scusate Che C'è Stacca Significa Vabbè Ad ogni modo Ragazzi Molto bello Questa scena Ma vediamo pure Kiki Vabbè Allora Vediamo qua Ovviamente Kiki Vecchiata Copessa Vida Gohan E' rimasto Un po' Lo stesso Qua Goat Che bello Cresciuto Si vede Molto bene Vegeta Con gli abiti Che donano Bene Qua Bolma Non si vedono Quasi Mazzacane Neanche Delle rughe Ma ci sta Molto bene Molto bello Poi qua Vediamo tutti Amici Piccolo Vabbè Poi La piccola Maron Cresciuta Cicciotto I geni Ma sto quale Bianco Bei capelli Quindi Bei vestiti Mi stessa Mi stessa Tamashibu Qua Uba Raga Ma è molto Bello Qua Raga E' proprio Togo E' piccolo A parte Raga Che sembra Quasi un po' Uno scheletrino Che sembra Che non Maggia Da un paio Di settimane Nemmeno Né maggia Né beve Acqua Che cazzo E' un po' Scheletro Però Molto bello Ed è tagliato Nel tagliato Ci sta Qua è bello Che si presentano Un po' Le presentatore Vabbè Questi capelli No E' bellissimo Guardate anche Lo scotto Raga Bellissimo Molto bello Questo raga Ve lo porto Sul canale Che è molto Bello E' stupendo Ragazzi Qua raga The wish of Ten year ago Qua raga Sono passati Sicuro Gli anni Raga Qua raga E' proprio A fine z Molto Bello Raga Ma lo scotto Mamma mia Has been Gritted Molto Bello Raga Guardate pure L'esplosione Dell'ora Qua quando Goku Insulta La mamma E scatena Un'aura Pazzesca Mamma mia Come si Scalametta Proprio Bellissimo Però E qua Raga Finisce Allora Però Non ci hanno Ancora data La data Ufficiale Ma è molto Bello Raga Di sicuro Ci saranno pure Missione Secondarie Qualche Atte mosse Mantato Rimanebbero Uguale Molto dettagliate Oppure Compeso Con la manchia Tempo Eccetera Eccetera E' molto Bello Ragazzi Il dettaglio E' fatto Da dio Niente male Ma lo vedremo Di più Qua d'uscita Qua ovviamente Che i loro due Volano insieme Si vanno Allenare Dastanza Spita E poi Quando c'è L'inizio Da rubo GT Ma spero Tato Che comunque Raga Rimangono Le trasformazioni Goku E I super Vabbè I carioc Super Saiyan Secondo Il terzo Rivello Ma almeno Raga Spero Che Tutto Quanto Sarà Bello Non vedo La raga Per vedere Quando Uscia Vabbè Ragazzi Spero Tato Che Questa Reaction E L'analisi Vi sia Piaciuta Fatevi Sapere Nei Cometti Che Cosa Una volta Ragazzi Qua Preciso Pass Disporibile Per PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox Twitch Stream Motato Ragazzi Qua ragazzi I piaccetti DLC C'è Badak E quello Di Goku E piccolo Il ventesimo Toneo Tekkaichi Molto bello Comunque Ragazzi Fatemi sapere Nei commenti Cosa Mi pensate I trailer Vi è piaciuto Lo acquisterete Mi raccomando Ragazzi Vi portavo Pure Questa serie Che ho preso Le missioni secondarie Quando approfitto Con la prima serie Che vi porto Ragazzi Su Carcot Poi faremo I DLC Promesso Quindi ragazzi Mi raccomando Iscrivetevi Commentate E condividete Questo video Per mettere la campanella Delle notifiche Per non perdervi Alte informazioni Ragazzi Sul mio canale E noi ragazzi Ci vediamo Per un prossimo video Ciao ragazzi